L'ha fatta un miutaio di Legnano, si chiama Alfonso De Crescenzo, che oggi ha l'influenza, altrimenti sarebbe qua e raccoglierebbe l'applauso che spero gli facciate perché è una chitarra veramente interessante e... è contento che sia nelle mie mani e spero ci rimanga per il resto dei suoi giorni quindi ora non so se c'è qualcuno che sta facendo video facebook in diretta o semmai Alfonso De Crescenzo ascolterà queste mie parole in ogni caso insomma spero che questa chitarra non faccia molta strada rispetto a quella che ha fatto fino adesso che ripeto rimanga qua nelle mie mani visto che mi diverte molto suonarla e spero anche diverta anche voi ascoltarla insomma in poche parole perché insomma il senso è che fa questo insomma non è male no? direi quindi quando poi vi dicevo prima di battere le mani magari incominciamo a farlo perché man mano che andiamo avanti abbandoniamo le pallate e incominciamo a fare un po' più di casino e nemmeno anche sui pezzi lenti che possono stare tipo questa insomma un po' più di bisogno The mills are closing down That's right Have you heard of you? The mills are closing down And the phone says so I'll be in the mall work in town I'll spend my lifetime on the mill And I wonder if I'm still alive I'll spend my lifetime on the mill And I wonder if I'm still alive While you're earning your dirty money I'll keep on throwing with the guys And I wonder if I'm still alive You know the buildings are the mill I'm feeling even my way to sight You know the buildings are the mill I'm feeling even my way to sight Feels like they're swallowing my soul And then you hear me and I cry I'm feeling as though It feels like you're falling And then I wonder if you're referring to Do you know what happened And then you're at the mill If you're around the mill And then they call me And then you're at the mill And then you're at the mill Il nostro corso gratuito 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 Il nostro corso gratuito